Si è interrotto il calo produttivo che da tre anni caratterizzava lo stabilimento Stellantis Melfitano. Il 20% delle produzioni è rappresentato da 500X, il 32% da Jeep Compass e il 48% da Jeep Renegade. Su Melfi, però, come dichiara la Fim Chisel, continua a pesare il blocco causato dai semiconduttori, essendo uno degli stabilimenti con la maggiore capacità produttiva. Sono circa 297, infatti, i turni di fermo produttivo e con l'ultimo accordo, attraverso l'uso di altri ammortizzatori sociali straordinari, si è riusciti a mettere in sicurezza l'occupazione per accompagnare la transizione dello stabilimento di Melfi verso la produzione dei quattro nuovi modelli multibrand completamente elettrici, confermati nel piano Stellantis a partire dal 2024. Il 2022 è stato un anno non buono per Melfi. Abbiamo lasciato un anno pieno di dubbi e preoccupazioni, convertenze aperte a partire dalle aziende delle logistiche. Sappiamo che il passaggio all'elettrico è tutto quello che ne comporterà. Se non si interviene in tempo, farà perdere centinaia e centinaia di posti di lavoro nel sito industriale di Melfi. Ora confidiamo nel 2023 perché sarà l'anno della preparazione dello stabilimento di FCA Melfi. La firma in questa fase è complicata e difficile e pronta a qualsiasi confronto con la regione. Ci sono le condizioni per confermarsi il cuolo di riferimento dell'automotive. Si è fatto in Piemonte e si può fare in Basilicata.